Welcome to Mirror TV! Ragazzi sono qui per parlarvi ovviamente di Monday Night Raw partiamo subito dalla Bloodline perché Raw si è aperto proprio con Roman Reitz, i Usos e Paul Heyman. Quattro entità pronte a lasciare un segno in questa puntata era l'unica cosa annunciata dello show rosso infatti io quando ho visto la preview sono in un altro sconcertato sapevamo per questa puntata di Monday Night Raw che la Bloodline sarebbe stata qui nello show rosso nulla di più e quindi ero curioso di vedere come sarebbero andati a gestire questo episodio ma parlando proprio della presenza di Roman Reitz con i suoi cugini ed Heyman classica roba no all'inizio Heyman fa il classico discorso pro Bloodline per poi passare il microfono a Roman Reitz e fagli dire no perché ormai Reitz ovunque va devi dire acknowledge me classica roba che abbiamo oramai visto e rivisto 30.000 volte ma stasettimana è stata più particolare del solito per la Bloodline perché dopo quella acknowledge me da parte del pubblico curioso il fatto che la WWE abbia montato dei cori per far fischiare Roman quando era stato riconosciuto perfettamente dal pubblico pagante ma va bene così una volta che ha concluso quella quella frase quella sua solita catchphrase oramai bam alle sue spalle arrivano gli Archebro Reader and the Horton a mettere K.O. Yusos con una Archeo quasi simultanea bellissimo bellissimo e poco dopo gli Archebro si voltano verso la rampa con Reitz che è rimasto leggermente sconcertato per l'accaduto bam risuona la tema di Drew McIntyre anche lui ha invaso Monday in Raw questa settimana e che ha fatto Drew si è presentato con la sua spada classico no per poi lasciarla fuori dal ring e dirigersi all'interno del quadrato per fronteggiare Roman Reitz da notare come gli Archebro lo abbiano lasciato da solo su ring per permettergli di fare questo uno contro uno contro Roma che è partito praticamente subito rissone tra lo scozzese e il tribal chief e ragazzi stava per avvenire nuovamente quello che è accaduto nell'ultimo tre smagdown con Roman che stava per andare in difficoltà tant'è che sono stati costretti a rinvenire sulla scena ma allo stesso tempo anche gli Archebro hanno fatto la stessa cosa così si è creato un rissone generale da paura con praticamente tutti quanti gli addetti della WWE costretti a fermare tutti quanti e trasportarli fuori dal quadrato siamo addirittura andati in pubblicità dopo aver visto gli addetti entrare su ring e però possiamo immaginare che hanno fatto una fatica in mane a portare tutta quella gente nuovamente nel backstage ci hanno confermato che a smagdown rivedremo tutti e sei gli atleti lì e che vi devo dire io fatico ancora un po' a realizzare il fatto che non vedremo bloodline contro gli Archebro a Bresterminia Beglas o meglio che non vedremo Yusos contro l'Archebro a Bresterminia Beglas mi sarebbe aspettato Romarezza a Bordoring per questo vi ho detto bloodline però ecco fatico ancora a credere che ci abbiano riempito la testa con tutta quella roba o quei segmenti anche in me c'è un altro uno per poi ripensarci e optare per questo 3 contro 3 che lasciatemi dire lascia la mano in bocca lascia la mano in bocca perché quando tu prepari il pubblico per una certa cosa e poi ce li pensi mi fai capire tante cose o quantomeno chi segue wrestling da 15 16 anni avrà sicuramente capito che c'è stata una virata importante di punto in bianco ma in maniera anche significante per un certo tipo di motivo sicuramente stanno preservandosi trumecchita contro Roma Reigns per un evento più grande va bene ma il ppv opposto per Bresterminia di solito gli ho sempre dato un certo tipo di contese affascinanti quantomeno contese valide per il titolo mondiale io ragazzi continuo a dire che da una parte avrei voluto che Roman Reigns non combattessi a Bresterminia di Bresterminia ma dove gli sto fare quella roba a parere fare quella roba anche con Shinsuke e Nagamura oramai non ho accettato il tutto ecco sono passati da quella roba con Nagamura a questo 3 contro 3 e non mi è piaciuto per niente di capire non mi è piaciuto per niente poi il match sarà comunque eccezionale perché la bloodline sono tre tipi davvero clamorosi a livello tecnico hanno un certo hanno una certa storia oramai in WP per quello che hanno fatto non sono gli ultimi due anni ma l'antissimo tempo dall'altra parte gli vuoi dire c'è sta Randy Orton c'è sta McKinney c'è sta Riddle cioè a livello di contesa sicuramente sarà tantissima roba a livello di qualità però se andassimo a analizzare no anche quello che c'è dietro purtroppo non è quello che ci avevamo fatto una my bocca ci avevamo fatto una my bocca beh andiamo avanti così andiamo a parlare di un'altra situazione perché il ro poi ovviamente è continuato abbiamo avuto Kevin Owens in compagnia della Falchia di affaccarmi contro Ezekiel e Street Profits match non nato a caso perché c'era stata una scaramuccia nel backstage anche Gaillard questa scaramuccia con Ezekiel che ha trovato una certa alleanza con i Street Profits che a quel punto hanno fatto quasi scudo su Ezekiel e sono andati a sfidare la Falchia e Kevin Owens in questa puntata il match tra l'altro secondo me è stato anche abbastanza cotibile puro intrattenimento con Ezekiel che ha trovato subito una certa sinergia con Montez Ford e Angelo Dawkins ha collaborato con loro molto bene anche quel triplo dropkick che non mi viene da pensare adesso c'è stato subito un bel rapporto tra Ezekiel e i Street Profits dall'altra parte i Kevin Owens con l'Aff Academy avevano più un rapporto consolidato visto quello che sta accadendo in tutte queste settimane Kevin Owens sa di poter contare sull'Aff Academy e il loro talento e allo stesso tempo qui tre hanno qualcosa che non voglio dire manca i Street Profits e Ezekiel però si è vista la differenza lì sul finale con Kevin Owens pronto a metterci lo zampino per distrarre Ezekiel il quale si lascia colpire e distrarre e anche poi fregare da Chad Gable che con una culla va a vincere la contesa va a vincere una contesa anche abbastanza inutile mi viene da dire perché Kevin Owens come avete visto non è che era molto soddisfatto di questa vittoria a differenza dell'Aff Academy e è stata una vittoria così per Kevin Owens e ha voluto più che altro lanciare un messaggio a Ezekiel a fargli capire chi comunque sia il migliore tra i due oltre la storia che lui non ci crede e vuole far capire che comunque va dalla situazione Kevin Owens è pur sempre Kevin Owens è questo credo il messaggio che abbia voluto lanciare Ezekiel a Ezekiel con quell'intervento ci può stare ci può stare questa roba e so anche abbastanza contento che sia stato questo l'opene perché poi diciamoci la verità gli Street Profits e l'Aff Academy difficilmente deludono con questi match difficilmente deludono e anche stasettimana a livello di trattenimento cosa gli vuoi dire? Nulla 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 andiamo avanti perché c'è stato un promo di Edge sul ring che doveva accompagnare Damian Priest tra l'altro questa settimana Edge e Damian Priest hanno fatto tutt'altro tipo di entrata rispetto all'ultima puntata di Modern Warfare mi ha un po' sorpreso sta scelta perché Edge scorsa settimana era entrato col trono con Priest accanto stasettimana invece si è fatta a piedi Edge da capire un po' questa situazione un Edge che poi ha preso anche il microfono in mano poco prima della contesa di Raven Priest e G-Styles e se l'è andata a prendere con il pubblico tra l'altro da quanto io so lui vive in quello stato e lui ha promato praticamente contro la gente del suo stato e a una certa gli era un po' confuso perché si voleva per forza mettere in bocca a Edge delle parole e farlo fischiare e giustamente lui ci sta però è un Edge che per farsi fischiare non è che dice cattiverie sul roster cattiverie sulla gente oppure si proclama a livelli altissimi no, lui se la prende proprio con il pubblico pagante comunque va oramai è un Edge davvero con la lingua lunga con il pubblico c'è stato questo cambio un po' repentino, strano perché comunque Edge fino all'ultimo giorno da Face era stramato dalla propria lui ha fatto questo volta faccia da Edge però mi fa ancora un pochino strano tranne quando fa quei discorsi mistici quando mi parla di booking a lungo termine lo amo però quando se la prende col pubblico così con tutta quella cattiveria ancora non riesco a... non lo so arrabbiarmi con lui ecco arrabbiarmi con lui perché non ho visto sto volta faccia del pubblico come tra l'altro lui ci vuole far capire boh, vai detto ciò poi è entrato Edge e Styles e hanno fatto la contesa Edge e Styles contro Damian Priest secondo me uno dei migliori match della serata se non il più bello anche perché il 3 contro 3 ha rubato la sua scena quindi voglio soffermarmi su queste due contesie come i match più belli di questa puntata di Monday and Raw ma parlando un attimo di una stipulazione che c'era in questo match qualora Styles avesse battuto Damian Priest Priest sarebbe stato bannato dalla contesa che aspetta Styles contro Edge avreste il video a Beckerich così è stato il Phenomenal 1 ha battuto Damian Priest dopo però un match secondo me bellissimo pieno di capovolgimenti di fronte ma pure di anche tanto storytelling perché Priest nella prima parte della contesa ha provato a indolezire e a fortunare nuovamente il braccio di Styles che però gli ha fatto capire di stare comunque in forma gli ha fatto una torta rock bomb da paura da paura ragazzi vedere Styles sollevare in quel modo Priest fai poi la rock bomb è stata una cosa fantastica fantastica ma ci sono state anche altre manovre belle anche da parte dello stesso Damian Priest tipo quel calcio, lo speedy, quel kick bellissimo, bellissimo gli hanno stati tanto wrestling, tanto racconto non poteva essere da meno che poi a Bordoling c'è stata anche Edge che un po' cercava di infastidire Styles che per lui ha stato sempre concentrato e nonostante qualche problemino al braccio è riuscito a vincere il match pure, pure, nonostante la distrazione di Edge che a un certo punto sale sull'Ebron prova a distrarre AJ che però frega a sua volta Priest con una culla 1, 2, 3 seconda culla decisiva dopo quella dell'Opener anche qua no va bene così va bene così dovevano preservare Priest dovevano proteggerlo ci può anche stare secondo me in quest'ottica la seconda culla decisiva di Matt e poi però che succede non appena risuona la team di Styles che ha vinto il match con quella golla bam Edge va a attaccare il Fenomeno One si aggiunge presto anche Damian Priest il quale porta su ring anche delle sedie e i due si preparano nuovamente a infortunare Styles nuovamente hanno infortunato il braccio del Fenomeno One ma risuona la team di Finn Balor che arriva a 3000 sul quadrato va a mettere KO Damian Priest fa scappare Edge e ragazzuoli Finbalo resta lì al centro del ring guarda stare alzarsi e poi i due vanno a fare un too sweet che mi ha acceso dentro soprattutto in questo periodo poi non mi riferisco ai discorsi che facevano le ultime settimane eh vabbè sembra che Finbalo verrà spostato in questa storia no io mi riferisco al fatto che il Bullet Club in questo momento a livello proprio internazionale mondiale chiamatelo come cazzo lo vi pare si stanno facendo notare si stanno facendo notare più che mai sono tornati davvero nelissimo auge lo stiamo vedendo in All Elite Impact New Japan ora anche in David Ritch c'è un po' di Bullet Club con AJ Styles e Finn Balor che poi si sono scambiati quel too sweet e ora ci stanno anche giocando sui social guardate pure quello che è quelli che stanno riduttando tutto Balor Jay White che li tagga Jay White è il leader del Bullet Club per chi non lo sa quindi wow 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 è un momento eccezionale per me io poi amo la Stable del Bullet Club e quello che è figuratevi vedere Styles e Styles e Finn Balor fare quella roba e questa alleanza a Raw però ora deve far parlare di sé e contro i loro c'è la Stable di Edge a German Day che appena nata io ho letto sul web che tanti non vogliono vedere Styles e Balor jobbare a Priest e Edge ma anche viceversa ovvero che tanti non vogliono vedere Styles e Balor jobbare a Edge e Priest si sono messi in una situazione davvero de cacca ma che devi fare ragazzi c'è pure modo secondo me di perdere Contese c'è pure modo io mi auguro a vs. William Baker che usano questo qua perché io non sono d'accordo che nessuno dei due deve jobbare ragazzi in realtà sta sempre uno che vince e uno che perde ma c'è il modo di perdere guardate Rollins guardate come sempre ha perso Rollins negli ultimi anni è rimasto sempre però un uomo di punta con tutte quelle sconfitte stessa cosa deve accadere in questa storyline almeno secondo me va bene così andiamo avanti e parliamo del Miss TV con Mustafa Ali allora ragazzi qua ci sarebbe tantissimo da dire parliamo un po' del segmento con Demiz che ha subito sabotato dal primo stante Ali interrompendogli la team dandogli un microfono scassato in modo tale da permettere solo a lui di parlare durante il segmento Demiz ha riempito di frecciatine Mustafa Ali con quella frase pure un po' bastarda da parte di Mike che è andata di Ali se non ti sta bene però non andai a polemizzare sui tweet come già fatto non mi vien da dire e tutta questa roba si va a collegare a quello che ho detto settimana scorso però stanno continuando questo percorso per punire Ali a modo loro da parte della Davide perché vi ricordo che a me se gli scrivono i promo poi lui li recita con quella cattiveria bravura eccezionale che questo penso sia proprio descuribile però è chiaro il lavoro che c'è da parte della Davide dietro a questa situazione Ali ha saputo tenere tenere botta ma si è ricreata la stessa situazione di settimana scorsa ovvero che è arrivato Mr. Theory il nostro l'Unione degli Stati Uniti si è messo vicino a DeMitz e i due si sono fatti forza con Theory che ha detto a DeMitz che ha chiesto a Vince McMahon di cancellare la sconfitta di settimana scorsa dalla manacqua di DeMitz quindi quella vittoria da lì non conta più nulla poi ha aggiunto che Austin T Austin T ha fatto anche un po' un'altra parte del fucking champion dicendosi pronto a dare un contenders match ad Ali ma questo contenders match che già era stato veramente bello che è scritto sarebbe stato un handicap match tra Ali contro DeMitz e Austin Theory una punizione esemplare da parte di Ali che non ha fatto nulla a livello narrativo a Vince McMahon se non mettersi contro il suo wrestler prodigio quindi con questa base può succedere succederà sempre di tutto adesso a Mustafa Lee che è stato anche accusato a un certo punto da parte di di non sopportare troppo l'It capirai giustamente lì è risposto se c'è qualcuno in quel backstage che può sopportare quello sono io ed effettivamente è vero visto tutto quello che è accaduto negli ultimi due anni con Mustafa Lee quindi roba molto curiosa tutto questo alla fine abbiamo avuto anche l'handicap match che qualora Ali avesse vinto sarebbe conquistato da due shot ma a parte che è durato poco Ali non si è comportato manco male ma ragazzi inizio e teori collaboravano come se fossero team da una vita di fatti le loro scorrettezze erano anche molto coordinate da loro c'era una buona alchimia tra Miz e Teori che si hanno sofferto un pochino poi hanno fatto valere tutto il loro ruolo da Hill con Teori che riuscì a distrarre lì su come cazzo su Lepron su Lepron Mustafa Lee Miz ne ha approfittato con una skull crushing dalla mid rope al suo avversario 1 2 3 Ali non può chi cautare alla skull crushing di mese giusto così e quindi perde sta contesa perde sta contesa Miz e Teori vanno sulla rampa davvero molto estasiati da questa vittoria iniziano a fare selfie ma anche video che poi trovate sui social quindi si godono questa vittoria importante per chi non lo so per quanto riguarda Miz e Teori ma invece sul quadrato Ali ritorna lentamente in piedi e poi lì viene attaccato da Ciampa nuovamente anche questa settimana Ciampa va ad attaccare un Ali praticamente distrutto senza però dare poi spiegazioni perché il segmento si conclude con Ciampa che ha messo K.O. Ali e lo guarda con un'aria anche abbastanza soddisfatto vi ho promesso un po' un retroscena prima di fare questo video lì su Instagram e il retroscena è questo Ciampa ha combattuto a Menevent da Face contro Apollo Cruz c'è qualcosa che non sta funzionando allora sì io sono d'accordo che Menevent non conta nulla questo lo dico da anni ma adesso mi hanno dato proprio la prova più grande della storia perché Ciampa ha attato da Face a Menevent nella registrazione per ero ovviamente per poi un'ora e mezzo dopo andare ad attaccare Ali da Hill questo mi fa pensare che stanno gestendo questa situazione settimana dopo settimana classico la partenza ma con diversi occhi secondo me ragazzi questa situazione sta venendo gestita da diversi booker che già stanno creando una piccola confusione una confusione che potrebbe portare al de push quasi immediato di uno tra Ali e Tommaso Ciampa vediamo un po' come va a finire sicuramente ora Ali non può pretendere una chance al titolo degli Stati Uniti a meno che non trovi un certo tipo di reazione col pubblico che stessa settimana l'hanno sopportato molto di meno rispetto settimana scorsa quindi se faranno l'idea tra Ali e Ciampa capiremo tutto quanto capiremo se già si sta parlando di un de push per Mustafa Ali oppure si sta parlando di un push semplicemente per Tommaso Ciampa certe cose si vedono anche in maniera molto semplice da come è partita stasettimana con Ciampa che fa il face a Menevent e poi un'ora dopo va a fare l'Illaro potete ben capire che stanno già debushando qualcuno qualcuno già lo stanno debushando di due vediamo un po' che accadrà detto questo noi andiamo avanti e parliamo della Seth Rollins Appreciation Night e secondo voi a chi era dedicata questa serata dell'ex Mondo di una messaia ovviamente a se stesso un Seth Rollins che ha voluto anche illuminarci con quello quel faro al centro del quadrato il pubblico anche apprezzato iniziando a intonare quello della sua team ma proprio qualche istante dopo essere insonte ha rotti quei cori sono partiti dei cori in favore di Cody Rhodes che hanno fatto impazzire Seth Freaky Rollins che è andato a rimarcare che quella notte sarebbe stata soltanto per lui non gli rifregava niente di quello che diceva il WWE verso quella notte riguardava soltanto lui perché lui è convinto poi che il pubblico non riconosca più la sua bravura quindi aveva anche preparato un video per far ricordare chi fosse Seth Freaky Rollins una volta che indica il tantrum però si sente quel boom boom e poi la frase di Cody Rhodes che ha fatto impazzire Seth Rollins con quel nooo che io poi ho postato su Instagram perché mi ha strappato duemila risate è stato tutto quanto così perfetto questo segmento ragazzi ma soprattutto quanto è bravo Seth Rollins ho finito le parole per descriverlo potreste qua a parlare soltanto di quanto sia bravo di quello che gli auguro ancora di vincere però dobbiamo parlare un po' anche della risposta di Cody Rhodes che non interrompono con quel modo intelligente straordinario gli ha rovinato anche staserata Cody Rhodes e che c'è sta da dire io stasettimana più di parlare di Cody però voglio confermarmi molto su Rollins che una volta che si è visto Cody di fronte a sé gli andò a dire un paio di frasi che ha messo molto sul personale questa storyline ovvero che secondo Seth Cody non è bravo abbastanza come lottatore per andare a vincere il titolo WWE proprio come non era bravo Dusty che in effetti non ha mai vinto il titolo mondiale parole molto pesanti da parte di Seth Rollins che quindi ha voluto portare questa storyline a livello successivo con poche parole anche abbastanza semplici ma di pesantissimo pesantissimo contenuto tant'è che è partito subito un fight che ha visto Cody Rhodes trionfante con tanto di una Cody cutter da paura ha fatto quella Cody cutter velocissima per un momento perfetto stava bravissimo anche Rollins a sellarla in quel modo però è stato tutto quanto così repentito che secondo me il segmento è stato davvero molto bello anche per quel fight che c'è stato con quel finale con Rollins che poi scappa dal quadrato e un Cody che ora ora deve metterci qualcosa in più perché non c'è più soltanto la vendetta di Seth Rollins o quello che è successo ad S-Media ora ci sarà anche la vendetta di Cody per quello che Seth gli è andato a dire bello 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 io ecco se c'è un match che aspetta per S-Media è questo qua lato 2 tra Cody Rhodes e Seth Rollins costruito secondo me benissimo benissimo il resto Rollins difficilmente sbaglia a story tutto da 2-3 anni a questa parte è qualcosa di davvero incredibile andiamo avanti e parliamo di Bobby Lashley contro Seric Alexander anche Bobby Lashley ha una nuova entrata parecchio figa proprio da grande babyface mi è piaciuto tanto questa entrata di Bobby Lashley questa settimana ma ragazzi miei che vogliamo dire questa contestata pure non è stata tanto casuale perché Cedric Alexander è andato a cercare un po' la nuova promazione da parte di MVP vogliono creare probabilmente Cedric vogliono ovviamente accostarci a quell'uomo lì vogliono ovviamente accostarci a MVP e o Moss forse creare un art business 2.0 ma MVP ricordandosi di quanto ha sbagliato Cedric in passato gli è andato a fare soltanto una proposta ovvero di mettersi sulla strada di All Might e battere in questa puntata se davvero voleva impressionarlo doveva riuscire in questo Cedric e Alexander non ci riuscirà mai e non ci riesce nonostante le tantissime distrazioni di Bobby di MVP perché ragazzi durante la contesa tra Bobby e Cedric si piazzano lì sulla rampa o Moss soprattutto MVP con tanto microfono in mano e che dire ragazzi nonostante il trash talking pesante di MVP Bobby Ashley non perde praticamente mai la concentrazione devasta Cedric Alexander a Swan Dispire e Art Lock tant'è che Cedric viene proprio maciullato non so come faranno a riprendere Cedric e Sheldon non è detto manco che li riprendano anzi Sheldon nel contratto di scadenza a fine anno credo che possiamo oramai dire che tutto quello che abbiamo visto da Cedric e Sheldon Benjamin in questi ultimi mesi è stata davvero una porcata entravano ancora con la team dell'Art Business per farvi capire quanto ci sia stata poca voglia da parte del booking di aggiustare un po' le cose di cambiare a loro i personaggi quindi questo rispecchia un po' tutto quanto Bobby Lashley invece si conferma un buon face secondo me a Raw continua a essere davvero molto over giudicando anche le reazioni del pubblico Bobby Lashley contro Moss Aurest Miriam Backlash personalmente non lo attendo ma stiferò Lashley Lashley secondo me nonostante la senza rendita sta facendo ancora un buon lavoro parla poco ma fa tanto sul quadrato questo deve fare Bobby Lashley face l'ho sempre detto ora sono abbastanza convinto che ci riuscirà a meno finché non finisce la storyline con Omoss secondo me Bobby Lashley sarà un buonissimo top face di Modena Raw detto questo siamo arrivati al main event delle donne 3 contro 3 Liv Morgan ragazzi io ancora fatico a credere che con tutti questi nomi siano sbucati da Liv Morgan quindi Liv Morgan Bianca Belair e Asuka ritornata a Raw settimana scorsa contro Sonya Deville Rhea Ripley e oddio 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 e Becky Lynch questo è stato un main event secondo me come vi ho detto anche prima quando vi parlavo di Priest contro Styles di un livello di lottato eccezionale eccezionale perché hanno dato spazio a tutte quante e sono rimasto molto sorpreso con il momento che anzi non solo da come si è sbucata Liv Morgan a fine match ma anche durante la contesa la combinazione tra Asuka e Liv con Asuka che va a colpire con un colpo l'avversario sull'Evron e poi Liv che aspetta l'avversario per fare quella colbreaker a volo per me è stata eccezionale bellissima ripreggevo le fatture che mi ha fatto anche pensare non è che questi vogliono fare Liv Morgan con con Asuka no no è stato bellissimo è stato bellissimo Bianca Belair che cercava di mettere le mani addosso a Sonya Deville in tutti i modi e Sonya che cercava un po' di proteggersi Rhea Ripley invece non pregava di mettere le mani addosso a chiunque soprattutto a Liv Morgan si vedeva una cattiveria proprio da parte di a Ripley la stessa cosa si poteva dire Liv quando andavano in collisione mi è piaciuta anche Becky Lynch che scuoteva più volte la testa è una cazzata nera con Asuka ma anche con Bianca Belair che non vedeva dalla famosa notte di Wrestlemania 38 no a livello ovviamente on screen e quindi ho visto un po' di tutto sta contesa non soltanto il bellottato ma anche delle ottime interpretazioni a parte delle sue atlete che volevo dire a me il match è piaciuto tanto mi ha sorpreso tremendamente il finale sta votando la vittoria a Sonia Deville tranquillamente perché ho pensato non è che vogliono davvero di dare un'altra chance a Sonia Deville magari le fanno schienare uno a caso del team avversario così lei c'ha il presupposto per dire che può andare a fronte Bianca Belair a Vresmini a Bekles invece non è stato così invece non è stato così perché Sonia Deville si fa fregare da Bianca Belair che la distrave fuori dal quadrato lì bravissima Liv Morgan che va a connettere in maniera repentina la sua finish uno due tre Liv Morgan schiena a Sonia Deville fa vincere il suo team Bianca e Asuka se la vanno subito ad abbracciare quasi a fare scudo attorno a lei ed è una Liv Morgan che allora vogliono cercare di portare a livello di Rhea cosa che non mi aspettavo e ora posso dire sinceramente che sono molto contento con questa scelta Sonia Deville invece va a raffigurare quello che vi ho detto nelle ultime due settimane non mi sembra un avversario credibile per Bianca Belair a livello del storyline c'è sta poco come number one contender al titolo di Bianca ha perso anche sonoramente contro la campionessa finita di Raw basta come avevo già detto basta basta ora basta non so se la butteranno fuori dal suo ruolo da officer quello che mi pare officio a quello che cazzo è basta basta curioso di vedere ora che succederà tra lì Morgan e la replay vedo ancora il vantaggio l'Australiana dio mio però sono contento che abbiano provato ad alzare lo status di Liv che poi è stata accolta anche molto bene non solo dalle sue compagnie di team ma anche dal pubblico vediamo un po' a proposito della situazione femminile non mi sono scordato Nikki Hush e Dutrop hanno fatto un segmento che lascia all'esergire che torneranno come tag team ma stavolta in maniera più intelligente con Dutrop che è andata la Nikki Hush ha detto hai smesso di farse cazzare col 247 torni a fare la serie per favore Nikki ha annuito e ora sono curioso di vedere che accadrà ecco bastava un segmento tra Nikki Hush e Dutrop lo dissi in passato basta soltanto un segmento quando volevamo fa ad un certo punto addirittura le hanno separate con Nikki Hush che preferiva andare dietro al TV 247 ora riprendendola così vediamo un po' se Nikki Hush e Dutrop possono essere un buon team che vanno un po' quantomeno a impensierire Sasha Banks e Naomi molto meglio Nikki Hush e Dutrop che Natalia e Shana Basler ragazzi anche perché io ancora non ho capito cosa lega Natalia e Shana Basler non c'entrano un cazzo l'una con l'altra ovo zero zero fatevi solo la vostra ora qui sotto nei commenti spolliciate commentate condividete iscrivetevi al canale questo ancora fatto ragazzuoli Davide è tutto too sweet